E' una storia che ha per luogo varigini dell'anno del Signore, 1482, storia di amore e di passione. Noi gli artisti senza nome, la scultura e la rima, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle catedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, tutto sale su verso le stelle. Su mura e pirate, la scrittura e l'architettura. E tanti pietri, tanti giorni, con le passioni secolari. E con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore, e come volano ideali nei cieli del domani. E questo è il tempo delle catedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia. E questo è il tempo delle catedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia. E questo è il tempo delle catedrali, la pietra si fa, statua, non è un tempo delle catedrali. la pietra sarà dura come la realtà questo bandaglia i bagagli che già sono qua oggi è il giorno che verrà oggi è il giorno che verrà